Entra nel vivo il Festival dello Spettatore, la rassegna unica nel panorama internazionale che rivalta il punto di vista e mette così il pubblico in primo piano. Il Festival è partito sul tema del rapporto col tempo. L'avventura del Festival dello Spettatore è cominciata con grandi libri in presentazione, grandi pensieri sul mondo dei bambini, sul mondo delle nuove tecnologie e continuerà soprattutto nei prossimi giorni perché avremo degli ospiti straordinari come Galimberti che ci parlerà di tempo, come un po' tutto il Festival parlerà di tempo, ma Galimberti ci parlerà proprio delle figure del tempo, quindi sarà una giornata molto interessante, molto importante per poi arrivare fino anche alle giornate crew, quelle dove ci sarà Natale in casa Cupiello, fatto da attori e figure ma anche quello originale l'ultimo giorno proiettato con gli eredi che ci parleranno un po' della vita di Edoardo e di tutto quello che succederà. Il Festival dello Spettatore avvicina i nuovi spettatori e avvicina i gruppi organizzati, ci saranno una grande riunione di due gruppi di tutta Italia e quindi saremo un po' la casa degli spettatori d'Italia. Il Festival quest'anno diventa sempre più itinerante. Assolutamente, quello di Monte San Savino è quello importante fuori in provincia, sarà una prima nazionale, un maestro e margherita rivisto e rivisitato, sono già da una settimana che sono in prova a Monte San Savino, quindi il pubblico potrà andare in pullman a vedere questo spettacolo anche avendo un piccolo spuntino per arrivare alla sera, quindi sarà veramente una giornata di aggregazione anche molto importante. Il teatro è anche unione e anche aggregazione.